salve a tutti amici e amiche oggi un video che mi avete chiesto nei giorni scorsi tratteremo quindi la storia e l'impiego del magnifico mi 24 haind elicottero d'attacco e da trasporto russo dalla sagoma inconfondibile perennemente presente negli assetti russi e in tutto il mondo nelle immagini che arrivano ai telegiornali da 50 anni a questa parte come sempre cari amici vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto e volendo potete abbonarvi fare una donazione una qualsiasi di queste azioni rappresenta un enorme aiuto alla mia iniziativa e mi permette di continuare a fare contenuti allora se non lo avete ancora visto qualche giorno fa ho trattato un altro elicottero russo altrettanto famoso il mi 8 vi consiglio di dargli un'occhiata perché lo sviluppo del mi 8 è strettamente legato al mi 24 di cui parlo oggi infatti si può dire che il mi 24 è proprio un'evoluzione e condivide molte parti del suo predecessore la storia delle motorizzazioni e del sviluppo dell'acero del mi 8 porterà infatti proprio al mi 24 negli anni 60 michael mill capo progettista della mill moscow helicopter plant aveva buttato giù le idee per una versione più corazzata e armata del suo mi 8 al fine di migliorare la mobilità sul campo delle truppe e allo stesso tempo avere una macchina che avesse più una vocazione per l'atto a calzuolo con capacità anticarro e antifanteria sviluppò così il v 24 che si presentava come un'evoluzione del mi 8 con importanti modifiche alla fusoliera più stretta e comunque capace di trasportare fino a otto soldati delle piccole ali orizzontali capaci di supportare sei piloni per razzi o gampod e un cannone o una mitra elettrice posizionata davanti all'abitacolo il 19 settembre del 69 dopo alcuni test di voli stazionari il prototipo v 24 fece il primo volo libero del mi 8 condivideva la motorizzazione e la trasmissione e il rotore a cinque pale e adottava già la soluzione del carrello triciclo retrattile michael mill propose il progetto alle forze armate sovietiche inizialmente però fu osteggiato dai membri più anziani delle stesse forze armate che non vedevano nessun futuro nell'elicottero tuttavia mille riuscì a convincere il primo viceministro della difesa andrei greco a convocare un gruppo di esperti per esaminare la questione nonostante qualche reticenza da parte della giuria alla fine i sostenitori del progetto ebbero la meglio e così l'unione sovietica emise la specifica per un elicottero d'appoggio tattico trasporto e utile nel campo di battaglia molti fra l'altro credono che i sovietici stessero osservando attentamente quanto accadeva in vietnam con l'america che stava realizzando i suoi elicotteri su scala industriale proprio per la nuova dottrina di mobilitazione aerea che avrebbe sviluppato da lì in poi quindi è molto probabile che queste reticenze fra i vertici sovietici siano state accantonate proprio in virtù di quello che stava facendo l'america in vietnam ma ormai con la specifica prodotta dal governo ci si mise al lavoro per rispondere a questa mille preparerà due progetti un design di elicottero con un singolo motore per un peso da 7 tonnellate è un altro bimotore per un peso di 10,5 tonnellate entrambi condividevano la stessa motorizzazione nel frattempo si studiavano diverse configurazioni della cabina di pilotaggio per ottenere il miglior risultato per la posizione del pilota e l'operatore ai sistemi d'arma dall'ufficio di progettazione camov arrivò anche una proposta per la conversione militare del k25 asv come soluzione più economica questa fu presa in considerazione ma alla fine il bimotore di casa mill vinse la gara ulteriori modifiche portarono allo sviluppo del prototipo che effettuava così i primi voli come ho detto nel 69 purtroppo nel 1970 il capo progettista michael mill moriva all'età di 60 anni i suoi elicotteri hanno stabilito 69 record internazionali modelli come il mi 12 vinse il premio sikorsky come l'elicottero più potente del mondo e michael mill fu riconosciuto come un personaggio di fama internazionale i test sui prototipi nel frattempo continuarono nei successivi 18 mesi con modifiche strutturali per risolvere i problemi di fatica e delle vibrazioni le ali furono inclinate verso il basso per quello che in gergo tecnico viene definito diedro negativo questo per ridurre la brutta tendenza a rollio oltre i 200 chilometri orari così con altre modifiche ai piloni alari per poter supportare missili guidati anticarro sturm e il rotore di coda si spostava da destra a una posizione a sinistra con la conseguente inversione del senso di rotazione del rotore principale vedevano così la luce le prime tre versioni la a la b e la c non tanto diverse come soluzione per quanto riguardava l'abitacolo dal prototipo originale mentre la versione di a partire dal 1973 con il suo caratteristico abitacolo a sbalzo in tandem sarà la base su cui si svilupperanno poi tutte le versioni successive inizialmente la versione di montava una metragliatrice a canero tanti da 12,7 mm capace di 4000 colpi al minuto poi da questa si sviluppò la versione mi 25 per l'esportazione e la versione e che introduceva i missili radio guidati anticarro at6 sturm capaci di colpire fino a 5 chilometri di distanza e anche con capacità anti elicottero la versione successiva fu i mi 24 p denominato a f che poi è quella che mi vedete utilizzare oggi in digital combat simulator fu quella di maggiore successo e anche poi la più diffusa e più prodotta in russia la metragliatrice a canero tanti fu rimossa in favore della molto più potente e anche se in posizione fissa gsh da 30 millimetri posta sul fianco e dotata di grossi coni antifiamma per evitare di accecare il copilota mitragliere quest'arma fra l'altro il mi 24 la condivide anche con il camov 50 seguirono poi altre versioni come il mi 35 per l'esportazione e capacità ogni tempo e l'ultima versione mi 35 p che è la più recente con una nuova avionica digitale telecamere termiche visori notturni proiezione dei dati sui caschi dell'equipaggio telemetro laser una suite di automatica difensiva e nuovi missili anticarro con la produzione iniziata ad agosto 2020 lo hind per la definizione nato almeno o carro armato volante per i russi oppure anche affettuosamente chiamato coccodrillo è stato esportato in dozzine di paesi in tutto il mondo impossibile nominarli tutti ma curiosità anche gli stati uniti ne hanno due esemplari il suo impiego operativo è lunghissimo è stato l'elicottero d'attacco più utilizzato nella storia umana ha attraversato 50 anni di conflitti quindi sarà impossibile citarli tutti mi limiterò a citare quelli più significativi anche per darci una prospettiva utile per capire le tattiche di utilizzo e come sono cambiate e il loro impiego nel conflitto odierno in ucraina il suo primo impiego operativo si verificò nella guerra dell'ogaden nel 1977 fra etiopia e somalia fu uno strumento utilizzato in attacchi al suolo e trasporto truppe permettendo la riconquista del territorio da parte dell'esercito etiope a partire dal 1978 nei dieci anni successivi dal 77 all'87 le forze armate libiche utilizzarono il b24 durante la guerra civile in ciad o chad nel 1980 furono utilizzati così per riconquistare la capitale nel marzo 1987 le forze armate del nord appoggiate da stati uniti e francia catturarono una base aerea libica nel chad settentrionale fra gli aerei catturati durante questo raid c'erano anche tre mi 25 quelli per l'esportazione questi elicotteri furono forniti alla francia che a sua volta ne inviò uno al regno unito e l'altro agli stati uniti e poi arriva la guerra in afghanistan dal 1979 in dieci anni di conflitto in b24 insieme ai mi 8 con cui facevano spesso coppia furono impiegati nella guerra in afghanistan spesso venendo presi di mira dai mujahideen equipaggiati con missili terra aria di origine occidentale stime ufficiali sovietiche riferiscono dell'impiego di 250 mi 24 in afghanistan mentre fonti dei servizi segreti americani stimano un numero compreso fra 85 e 120 esemplari fra il 1980 e il 1985 non si sa il numero esatto degli abbattimenti perché appunto l'unione sovietica non era solita fare comunicati di questo tipo ma il conflitto in afghanistan sappiamo per certo che fu lungo e sanguinoso a partire dal 1979 i piloti afghani addestrati all'uso del mi 24 iniziarono le operazioni contro i guerriglieri che però si rilevarono coriacei il primo mi 24 personazione fu abbattuto il 18 luglio dello stesso anno nonostante questo l'elicottero si rilevò piuttosto efficace nonostante le perdite subite tanto da meritarsi il soprannome di carro di satana da parte dei mujahideen il suo foco di supporto fu apprezzato dalle truppe perché poteva restare in zona più a lungo dei passaggi veloci dei jet da combattimento le sue armi più utilizzate in questo conflitto furono i razzi non guidati e il cannone spesso l'equipaggio portava munizioni supplementari al posto dei soldati in questo modo l'elicottero poteva atterrare e rifornirsi per fare un secondo raid autonomamente pur potendo trasportare bombe non guidate l'utilizzo di queste armi si rilevò troppo pericoloso in quanto l'elicottero poteva essere colpito dalla loro stessa onda d'urto mentre per quanto riguarda l'arma più sofisticata del mi 24 cioè il missile sturm fu utilizzato molto raramente soprattutto per il fatto che i ribelli afghani non avevano carri su cui questo missile si poteva agganciare ma con l'arrivo delle forniture americane ai mujahideen i piloti di mi 24 si adopereranno in un atteggiamento più cauto e quindi iniziarono iniziarono a usare questi missili perché avevano gittate molto più grandi e quindi gli ingaggi potevano essere fatti più dalla distanza la capacità di trasportare truppe fu in realtà molto trascurata perché rappresentava una distrazione per l'equipaggio e inficiava soprattutto le doti di volo per un volo ad alta quota necessario nel teatro afgano le piastre rinforzate per l'area di carico e trasporto truppe spesso venivano rimosse proprio per alleggerire l'elicottero per questi motivi i mi 24 venivano usati essenzialmente come cannoniere per le operazioni di soppressione delle minacce e antifanteria mentre magari scortavano i miotto che trasportavano le truppe nelle immagini di repertorio non a caso si vedono spesso questi due modelli volare insieme molto spesso furono installate mitragliatrici brandeggiabili al posto delle stive di carico in questo modo il tecnico di volo poteva coprire i punti di cechi dell'elicottero dopo che questo sorvolava un obiettivo il ruolo primario di questo elicottero nel conflitto afgano fu quindi quello di cannoniera escorta ai convogli spesso volando in coppie o gruppi di quattro i mujahideen impararono a muoversi principalmente di notte per evitare le cannoniere in risposta a questo i sovietici addestrarono i loro equipaggi ai combattimenti notturni lanciando razzi illuminanti con paracadute per appunto illuminare l'area dove si sarebbe svolto l'attacco nonostante la superiorità aerea la guerra in afghanistan si trasformò presto in una sanguinosa guerra d'attrito e logoramento l'ambiente desertico mise a dura prova le macchine e se all'inizio i ribelli avevano solo mitragliatrici e cannoni antiaerei che non rappresentavano un grosso pericolo per i mi 24 perché era un elicottero blindato l'equipaggio era difeso da vetri blindati e poteva resistere ai colpi fino ai 12,7 mm ma i guerrieri iniziarono presto a usare anche manpads come strela di origine russa o occidentali fino addirittura a usare gli rpg anticarro contro gli elicotteri che non era idoneo per il ruolo antiaereo e il cui rinculo poteva spesso ferire il tiratore senza contare che la nuvola nuvola di polvere che sollevava lanciandolo rendeva immediatamente riconoscibile la posizione dagli equipaggi in volo nel 1986 però la cia iniziò a inviare forniture ai ribelli afghani con i nuovi stinger a ricerca infrarossa il vantaggio di questi nuovi sistemi antiaerei era che rispetto ai modelli precedenti come per esempio i redai e i sa7 strela potevano essere lanciati come si dice in all aspect cioè da tutti gli angoli poteva oltre il missile stinger poteva avere una guida a ultravioletti oltre che infrarossi di conseguenza era molto resistente all'azione delle contromisure di tipo flare il mi 24 inoltre aveva un grande difetto di progettazione motivo per cui ne abbiamo visti precipitare tanti anche nel conflitto in ucraina i gas di scarico dei motori vengono coinvogliati in grosse griglie poste ai lati dei motori stessi questo la disposizione dei motori su 24 era stata adottata per snellire il profilo aerodinamico ma allo stesso tempo aumentava tantissimo la traccia termica dell'elicottero creando due enormi fonti di calore ai lati della macchina una traccia su cui i missi di stinger potevano facilmente agganciarsi le perdite in afghanistan furono così consistenti che costrinsero gli ingegneri della mil a ridisegnare completamente il motore per il modello successivo mi 28 avoc che infatti ve lo mostro questa foto a una configurazione dei motori e dei gas di scarico lavati in dissipatori identica per esempio a quella della pace americano a pace americano e di altri elicotteri occidentali la pericolosità dei missili stinger costrinse i piloti sovietici e afghani a cambiare anche le loro tattiche se prima potevano permettersi di volare alti ingaggiare e poi buttarsi in picchiata iniziarono con l'arrivo dei missili stinger americani a volare molto più bassi e affacciarsi all'ingaggio solo all'ultimo momento questa tattica poi diventerà il normale standard operativo per questo elicottero che non è progettato per fare attacchi in volo stazionario almeno non come un elicottero occidentale e che con la sua massa poi sarebbe troppo vulnerabile deve infatti restare sempre in movimento ed è per questo che ci sono dozzine di video in siria e ucraina in cui lo si vede volare sempre a bassissima quota e ad alta velocità alzarsi quel tanto che basta per tirare i propri razzi e poi andare via sempre restando veloce in ogni caso i missili stinger e poi tutte le versioni successive rappresenteranno sempre un enorme minaccia per questo elicottero e nonostante l'utilizzo di contromisure e sistemi di difesa elettronici o rilevatori di fumi questa vulnerabilità non verrà mai risolta i mi 24 in afghanistan furono usati anche come scudo missilistico letteralmente per proteggere i decolli e gli atterraggi sull'aeroporto di kabul questi elicotteri lanciavano razzi deliberatamente per ingannare i missili a ricerca di calore questa tecnica fu soprannominata matrosov il volontario in onore di un eroe sovietico della seconda guerra mondiale che per proteggere i suoi compagni si era immolato contro una postazione di mitragliatrici tedesche secondo fonti sovietiche 74 mi 24 furono abbattuti in afghanistan ma in molti casi l'elicottero riuscì a riportare danni e salvare quantomeno gli equipaggi proprio per questo erano soliti portarsi dietro fucili d'assalto ed equipaggiamenti nel caso fossero stati costretti ad atterrare un fatto curioso da raccontare è che marat tishenko capo progettista della mil dopo la morte del suo fondatore si recò in afghanistan per avere un feedback cioè per sapere cosa ne pensavano dei suoi elicotteri equipaggi sul campo quando arrivò questi gli allestirono una vera e propria esibizione acrobatica dimostrando manovre come il tonno a botte ve lo mostro ma è assurdo che lo stesso progettista considerava impossibili dopo questo evento infatti commenterà pensavo di sapere cosa potevano fare i miei elicotteri ma ora non ne sono più sicuro e poi arriviamo per esempio ad altri conflitti come la guerra fra iran e irak la versione per l'esportazione il mi 25 fu ampiamente utilizzata dalle forze aeree irachene durante il lungo conflitto fra questi due paesi spesso volando insieme a gazelle di costruzione francese si rilevò efficace nel suo ruolo antifanteria e anticarro riuscendo addirittura a fermare l'offensiva iraniana del ramadan nel luglio 1982 questa guerra fra l'altro vide anche le uniche battaglie aria aria confermate nella storia con i mi 25 iracheni che volarono contro gli h1 si cobra iraniani forniti dagli stati uniti prima della rivoluzione iraniana nel novembre del 1980 non molto tempo dopo l'invasione iniziale dell'iran da parte dell'irac due si cobra iraniani ingaggiarono 2025 con missili anticarro tow un mi 25 fu abbattuto immediatamente l'altro gravemente danneggiato gli iraniani ripeterono l'impresa il 24 aprile dell'81 distruggendo 2025 senza subire perdite iracheni poi reagirono rivendicando la distruzione di un si cobra il 14 settembre 83 e poi tre altri sempre cobra il 5 febbraio 84 e addirittura altri te il 25 febbraio un articolo pubblicato nel 1982 pubblicato sull'iraki observer affermava che un mi f4 iracheno è riuscito addirittura ad abbattere un f4 phantom iraniano usando i suoi armamenti insomma prendete queste notizie per quello che sono purtroppo non sono mai state confermate ufficialmente almeno per questo conflitto poi mi sono limitato a citare le fonti più ufficiali e poi vediamo il suo impiego operativo in nicaragua fra il 1980 e l'88 in otto anni di guerra civile 12 mi 25 furono usati in azioni antiguerriglia fino addirittura all'area aria contro velivoli leggeri pilotati dai ribelli anche in questo contesto si è dimostrato un elicottero estremamente valido nelle operazioni antifanteria ma allo stesso tempo vulnerabile ai missili terra aria poi abbiamo la guerra civile dello sri lanka fra l'87 e 2009 l'indian peace keeping force tra l'87 e il 90 nello sri lanka ha utilizzato il mi 24 quando un distaccamento dell'aeronautica indiana è stato schierato lì a sostegno delle forze armate indiane e dello sri lanka nella loro lotta contro vari gruppi militanti tamil come le tigri di liberazione di tamil e lam si ritiene che le perdite indiane siano state notevolmente ridotte dal pesante supporto del fuoco dei loro mi 24 e poi ancora nelle operazioni peruviane fino ai giorni nostri nella guerra del golfo durante l'invasione del quate da parte dell'esercito di saddam in sierra leone in croazia durante la prima e la seconda guerra cecena dove 11 mi 24 furono abbattuti nei conflitti in congo dal 96 al 2003 e poi in kosovo nella crisi di macedonia costa d'avorio dal 2001 al 2021 nella guerra in afghanistan fra l'altro la più recente dove questo elicottero ha operato per la seconda volta in due conflitti diversi fatto curioso fu che questi elicotteri donati dalla repubblica cieca alla forza di coalizione internazionale furono pilotati dalle forze internazionali fra cui c'era anche un pilota americano tale kaleb nimmo primo pilota americano a volare un elicottero russo in combattimento nella storia umana il ruolo di questi sei elicotteri inseriti negli assetti internazionali fu di particolare particolare rilievo quantomeno nella difesa dei convogli e nel respingere gli attacchi dei guerriglieri talebani durante la guerra russo georgiana dei cinque giorni del 2008 questi elicotteri condussero attacchi particolarmente violenti contro convogli lungo la costa del caucaso fino aeroporto di senaki che ancora oggi vi mostro le immagini dal satellite mostra gli effetti di quegli attacchi e di quelle esplosioni e operarono anche nell'area dell'ossezia fra kutaisi e tiblisi il desiderio di indipendenza della regione si risolverà in pesanti perdite fra i civili e la situazione risulta critica ancora oggi passando poi per la guerra in somalia fra 2006 2009 e in ciad e in libia e di nuovo in costa d'avorio fra il 2010 e il 2011 le operazioni più recenti che hanno coinvolto i 24 sono sicuramente in siria da parte del contingente russo e poi anche l'aeronautica siriana ha utilizzato i mi 24 in molte città del paese sollevando non poche controversie sulla loro provenienza il pakistan con un accordo di acquisto di 153 milioni di dollari si è dotato di quattro cannoniere mi 35 e utilizzate in operazioni antiguerriglia nella provincia di balokistan queste operazioni dal 2018 fino ad oggi sono spesso condotte insieme alla h1 cobra e poi arriviamo ai giorni nostri 13 mi 24 sono stati schierati durante l'annessione della crimea nel 2014 seppure senza entrare in battaglia nel 2014 con la guerra in donbass durante l'assedio di sloviansk il 2 maggio due mi 24 ucraini furono abbattuti dai ribelli filorussi il 5 maggio un altro elicottero ucraino fu costretto ad effettuare un atterraggio d'emergenza mentre il 13 ottobre un mi 24 ucraino rivendicava l'abbattimento di un drone orlan a colpi di cannone dal 2022 ad oggi con l'invasione russa dell'ucraina entrambi i paesi hanno usato i loro mi 24 nelle operazioni con perdite da entrambe le parti il numero degli elicotteri abbattuti è ad oggi imprecisato ma sappiamo che sono dozzine il primo abbattimento confermato è avvenuto il primo maggio 2022 un mi 35 russo colpito da mempaz nel bacino idrico di kiev immagino che molti di voi ricorderanno quelle immagini della fila di elicotteri russi presa di mira da mempad mentre volavano bassi sull'acqua il 5 e 6 marzo altri due mi 35 sono stati abbattuti sempre ad opera di mempaz l'otto marzo il primo mi 24 ucraino è stato abbattuto con la perdita dell'equipaggio e poi da lì in poi ci sono stati tanti altri abbattimenti che potranno essere confermati o meno nel corso delle indagini storiche negli anni a venire come avrete certamente notato insomma l'impiego operativo di questo elicottero racconta 50 anni della peggiore storia umana oggi le immagini che arrivano dall'ucraina raccontano un approccio dei piloti ancora più estremo e conservativo di quello che accadde in afghanistan considerata l'enorme vulnerabilità di questo elicottero e di tutti gli elicotteri in generale la cosa più comune che si vede fare ai piloti russi è questa manovra strana in cui si presentano bassi radenti al terreno si sollevano quel tanto che basta e lanciano salve di razzi non guidati a muzzo ora mentre vi raccontavo della sua storia operativa vi ho mostrato l'abitacolo come si accende l'elicottero il modus operandi normale di questo elicottero quindi con i sistemi di puntamento che nominalmente può ingaggiare un carro armato di vecchia concezione a patto che non venga rilevato perché altrimenti sono dolori per il fatto che deve restare sempre in movimento per attaccare a un'efficacia molto limitata in un combattimento moderno insomma non può fare il cecchino come farebbe un k-50 o una paci americano che per loro natura restano nascosti e utilizzano i sensori molto più potenti per ingaggiare le minacce senza essere visti invece le modalità di attacco del mi24 sono più alla luce del sole diciamo così cioè lo espongono a enormi rischi interia in teoria sarebbe capace di lanciare salve di razzi non guidati e usare il cannone con notevole precisione ma questa tattica che si vede spesso nelle giornali di salire e lanciare a muzzo e andare via racconta qualcosa di molto diverso cioè che significa che i piloti non utilizzano i sistemi di puntamento per fare quello ma probabilmente solo un navigatore a bordo significa che i piloti russi non possono avvicinarsi più di tanto a quel tiro di precisione e quindi lanciano in modo molto casuale a palombella letteralmente il che fa un'azione di disturbo o sbarramento quello che volete o più o meno una sorta di artiglieria insomma queste salve di razze razzi lanciati in questo modo poi alla fine colpiscono ad ampio raggio e finiscono inevitabilmente per colpire le case dei civili e che con la guerra non c'entrano niente in ogni caso questa icona della la rotante russa conserva il suo fascino ancora oggi è una macchina bella se parliamo poi di tecnologia militare almeno un'ulteriore dimostrazione del ruolo dell'elicottero nella guerra moderna anche se oggi potremmo dire che questa macchina più un retaggio del passato che altro comunque con la sua velocità di 335 chilometri orari è l'elicottero da combattimento più veloce del mondo questo grazie alle ali che concorrono a generare portanza a una inoltre una cabina pressurizzata e blindata la possibilità di portare missili guidati bombe razzi e gunpod più un cannone da 30 mm che ho citato prima insomma per questi motivi può essere definito una sorta di carro armato volante fino a un certo punto ovvio però come ho detto come concezione è ormai un elicottero obsoleto mentre il mondo va avanti e si sta orientando sempre di più verso piattaforme iper tecnologiche con ruoli di coordinamento come per esempio il ruolo di jtac elicotteri e piattaforme che preferiscono restare in hovering e defilati nascosti e non affrontare il combattimento a muso duro quindi questo è quanto spero che il video vi sia piaciuto come sempre fatemi sapere nei commenti mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale un abbraccio alla prossima